Gli uomini del ceto medio Aristotele, 384 a.C. 322, filosofo scienziato logico greco, in politica dice Negli stati la classe media è la più sicura. Gli uomini di questa classe infatti non desiderano come i poveri i beni altrui. Negli altri desiderano i loro. Mentre i poveri agognano ai beni dei ricchi. Gli uomini del ceto medio vivono senza pericoli, perché non tramano insidie, ne sono insidiati. A ragione quindi Focilide esaltava la classe media nei suoi versi. La classe media ha molte eccellenti qualità. Io voglio essere uno di loro. Commento Nella realtà la classe migliore è quella dell'individuo che ha raggiunto una certa evoluzione. Questo individuo può appartenere a qualsiasi classe e a nessuna classe, proprio perché, rispetto alla media, è un evoluto. Grazie. 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 Grazie.